Mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani, queste sono le regole identiche a sabato scorso al mercato di Bassano. L'unica differenza sono i varchi, si può sia entrare che uscire. Spetta agli uomini della sicurezza e della polizia locale controllare che le persone non si assembrino, che tutto sia regolare, che tutti quanti indossino la mascherina. Oggi rispetto a sabato scorso ma anche a giovedì l'afflusso di gente è molto superiore. Il mercato della settimana scorsa era il giorno immediatamente successivo all'entrata in vigore dell'ordinanza che restringeva e metteva dei paletti ulteriori rispetto a come doveva essere organizzato il mercato. Quindi sabato scorso eravamo pronti solamente per la parte degli alimenti e così abbiamo fatto. Ci siamo organizzati nei giorni immediatamente successivi, abbiamo assoldato della sorveglianza privata, abbiamo diviso in segmenti in modo da monitorare ciascun varco di accesso e di uscita e rispetto a questa sorveglianza privata c'è l'affiancamento della protezione civile che in maniera sempre generosa presta il proprio aiuto a favore della cittadinanza. Il primo freddo di novembre associato a un bel sole ha portato comunque tanta gente in centro a Bassano ritrovando tante delle bancarelle che una settimana fa non c'erano per le scelte che hanno state fatte in relazione all'ordinanza regionale e all'ordinanza del sindaco. L'aria che si respira è comunque di fiducia, di avere voglia di uscire, di fare quattro passi, vedere delle persone e magari approfittare per comprare in anticipo qualche regalo di Natale.